Carissimo Stefano, in questo giorno che tu festeggi 50 anni c'è stato qualcuno della tua famiglia che m'ha chiamato, tra virgolette, marottoli coglioni, per fare in modo che se potesse preparare un qualche cosa che ti potesse far piacere. Ed ecco qui, questo è stato il prodotto della mia mente degenerata cerebralmente. Cari amichi e cari amiche, festeggiato e commensali, mo' che state aridunati in de sto giorno senso uguali vorrei decantare un pochetto le gloriose e grandi gesta de quest'uomo brizzolato co' cui oggi fa mio festa. Caro Stefano però, prima da proseguir tutto, io non vorrei che quel che dico tu lo vada a prendere brutto. Tutto quanto si inserisce nel teorema della prugna, e cioè per chi mi ascolta, a chi tocca non se ingrugna. Era il 16 di luglio, proprio nel 63, quando sorte sto pupetto, veramente un bel bebè. Stamio all'anno in cui ancora non esistono i Big Bubble, però questo è pure l'anno in cui nasce George Michael. Quando sorte dalla panza, il pupone sta accorato, piagne sempre, è una tragedia. Che Fernanda che ha pensato? Io non me lo porto a casa, gli passasse a tiritera. Nel frattempo, per carmallo, che gli ha dato un'infermiera? Proprio dentro al biberonne, in de'na maniera spiccia, gli ha già messo del carmante, ma una dose un po' massiccia. E così sto poveraccio, dopo il pianto prolungato, come che gli ha preso il sonno per tre giorni in sé svegliato. Tutto vero. Poi crescendo co' le sorelle, perché mamma lavorava, ha capito che col pianto qualche cosa rimediava. Nadie rita staglie dietro, n'hanno viste dei magagni, quando che voleva qualcosa non si rimetteva a piagne. Devo dì però che dopo si sono pure vendicate, soprattutto a carnevale, io me immagino erisate. Lui con i capelli lunghi, tutto biondo, era una stella. Come maschera non cebbe quella da contadinella. Nello studio andava bene, ma la cosa che sorprende, me far paro con qualcosa che alla fine in sé comprenne. Dal liceo provò perfino a voler far l'infermiere. Come mai si sviene pure per una bolla sul sedere? Una volta dentro casa, fuori c'era un freddo cane. Lui si mette tomo tomo da una parte a tagliar pane. Ma se sbaglia il cortellaccio, che era un po' troppo appuntito, non gli strappa il porpastrello e gli fa eruttardito? Certo che ha bisogno di che quel dito fu un siluro, perché coi schizzi di sangue gli esetinse tutto il muro. Acqua fredda, canavaccio, tamponcino con la bava. Lì lo là lo riferaffe, ma quel sangue in sabbio cava. Che succede in quel momento? Pensa tutto Barbarella. Prende il corpo del delitto e che scopre la porsella? Che un pezzetto di quel dito sta attaccato ancora là e gli dice nel mostrarlo. Te lo faccio riattacca. Stefanuccia, bocca aperta e col faccione in oridito, non gliela pomica fa a guardasse pure il dito. Sbara l'occhi, resta fermo, ci rimane zitto e muto e poi dopo se contorce e sbetebem, non c'è svenuto. Do schiaffetti per svegliarlo, ma non era sufficiente. Biaccio, buono, da una parte stava là e non capiva niente. Fino a quando la Garocci, per aumentare un po' i casini, chiama a casa l'infermiera e gli arriva il pergolini. Come Junior Bonmanuele non si mette a far canizze perché è facile la cosa, basta dargli un po' di pizze. Solo che la piace sul serio e per far svegliare Cecconi ci si mette a testa bassa e gli dà certi pizzoni. Nel frattempo, Stefanuccio, non si sa se è gecco o asso e per far se manca un cazzo si fa prendere un bel collasso. Con sta cosa di sto dito gli ci ha preso così in panza che è toccato da chiamare e decorsa l'ambulanza. Oggi stami a ricordarla, ci si fanno le risate, ma le chiappe in quel giorno non si sono mai allargate. E il Cecconi si è rimesso, ma l'ha fatto in modo brutto perché si è sentito meglio quando ha vomitato tutto. Pure senno assai vicina, questa qui è ancora storia, ma ce n'è un'altra cosa che rimane nella memoria. Quella volta che i caramba, come chi fa seca a scola, ti hanno detto, venga a prendere i documenti a Cecchignola. Per l'articolo boom boom del decreto 1009 devo da notificare gli st'ingiunzioni e ho le prove. La patente non c'ha più punti e non si mette a fare bizze, però posso consigliargli da rimettersi a fare i quizze. E così a 50 anni tocca mettersi a studiare perché pase con una volta la patente ai da pià. Barbierosi, state attente, che dovete danno a taccio, si valevano anche a voi dopo toccare l'abbiaccio. Ma ora basso, ho terminato, è il momento dei saluti. Te li faccio da Sicilia i miei auguri compiaciuti. E con chi te vuole bene e con quanti hai festeggiato, spero che te giunga callo sto poema spensierato. E sperando che qualcuno ti abbia ripulito i muri, posso solo che conclude con un grosso tanti auguri.